Adesso si sono spostati tutta nella zona ovest, verso i pomari, via Lelisi, 15-20 persone a petto nudo, bevono, fanno i soliti bisogni sulle piante e siamo sempre alle solite. È un disturbo proprio della quiete, della pubblica, c'è un degrado. Poi disturbano, poi passi, cominciano con ciao capo, ciao rambo, ciao bella donna, ciao bella bionda e tutto così. È una cosa impossibile, siamo stanchi, a volte alcune persone hanno paura. Insomma, da Campo Marzo, Parco Fornaci, immigrati, senza fissa dimora, spacciatori, si sono spostati qualche via più in là, portando con sé anche le cattive abitudini. Comitati e associazioni non mollano la presa ed anzi rilanciano. Abbiamo lanciato una petizione per cercare di sensibilizzare ovviamente non solo l'opinione pubblica ma soprattutto le istituzioni sulla condizione di questa zona. Siamo arrivati a oltre 300 firme già in una settimana quindi contiamo di fare un buon lavoro. Abbiamo cominciato a chiedere maggior pattugliamento ma soprattutto anche in vista del prossimo periodo l'attivazione e l'operatività del progetto, del protocollo Milleocchi che il prefetto ha siglato insieme agli istituti di vigilanza. Di conseguenza questo mese continueremo con questa raccolta e la porteremo a settembre a chi dovere. Grazie. Grazie.